Le bambiniere sono le bambiniere Le bambiniere sono le bambiniere Vogliattori Chi deve fare? Chi va la terza scena? Terza scena La terza scena Il bambino Il bambino Silenzio! 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 io so che come ti chiami tu tu sei tommaso scotto come no lorenzo lorenzo è tua fratello Andrea magari Andrea chi è tommaso ciao 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 guardiamo come si riprenda Giorgio Massager patient bravo bravo che esitta che esitta che putza di tappi shhh eh ah sei che sei troppo vicino shhh veloci 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 vale Grazie. 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 Grazie.